Sperazione. Erore. Credenziali non trovate. Ma che importi? Attivazione sistema di sicurezza. Devi mettere l'armatura. Ma è vero. Attendere ispezione di sicurezza. Rilevata presenza non identificata. Inizio la ricerca. Ok, dobbiamo riaprire le botole. Occhio alle torrette. Occhio alle torrette. Lo scendere da qui, credo. Io sto qua dietro. Falta. Roboto è andata nell'incontro la torretta. Dovrei aver disattivato le torrette. Dobbiamo creare una tessera. Prova un modo per creare una tessera. Sì. Problema di sicurezza nel settore residenziale. No. Perché ad essere? Vediamo. Vediamo i più metri. Vediamo. Vediamo. Continere. 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 Attenzione. Si richiedono con urgenza. Fabbricazione. Sostituti personale di sicurezza. Dobbiamo... Fa uno alla volta. Scoppia, scoppia, scoppia! Un secchio, sono entrato col secchio. Guarda! Guarda! Assemblaggio rinforzi. Sì. 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 Fino a qua ci ero riuscito pure io a farlo. E dopo le griglie che è un casino. Uff. Sì. non riesci a un cuore di magno E' anche il livello 1, il corso. No, mi si è rotto a me la gladrice. Consolidamento di ulteriori unità di sicurezza. Ehi, capro, devi essere attento a queste cose. No, a me mi sembra sempre una roba ingestosa. Ehi, che ti posso dire, vattene a rifare il bar giusto al volo. Vabbè, non posso farne a meno per un po'. Vabbè. Squadre di sicurezza nel settore alfa. Accesso consentito. Ti do benvenuto, generale. Scansione. Scheda rilevata. Procedere alla sala di controllo con scheda nucleare e codice di lancio per avviare la procedura di lancio. Problema di sicurezza risolto. Restare in attesa. Devolta. L'area non è sicura. Perfetto. L'area non è sicura. Sensori liberi. allarme sensore anomalia rilevata entro in azione ma che 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 c'è la saultron buggato nel muro meglio allora meglio oh l'alleato è uscito pure il cazzo di cosa eh ma io ho la mitragliatrice anti-robot però ma è vero bravi a saultron ti sembra che creatore per riparazioni c'è un'assaltron potevo corrette ma fuori dietro una che non sono particolarmente overpower non 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 oh c'è da sta un troll oh c'è da un troll arriva qualcun altro Ah, d'orre il tocco. Ah, il resto il rettore va effettua la rivoluzione. Oh, ma qua è pieno di gente. Oh, ma qua è pieno di gente. Ah, ho capito. Oh, ma qua è pieno di gente. Ah, quelli che perdono. Sì. Oh, ma qua è pieno di gente. Eccolo l'ultimo. Da sopra. Riavvia il rettore. Ho spawnato qualcuno. Riavvia il sistema. Riavvia riuscito. Integrità reattore ripristinata. Terminazione. Blocco di sicurezza. Apertura porta stagna. Allontanarsi. Blocco. Blocco di sicurezza. Acciglia. Blocco di sicurezza. Caglia. Caglia. Sì a 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 no rilevato personale non autorizzato nel centro c'è una cosa da per terra protocollo di sicurezza del computer centrale omega 12 adottor personale difendere il computer e la zona integrità dobbiamo distruggere il computer centrale qual è il computer centrale? dove ci andiamo là? ah eccolo che hai fatto? stanno tutte le cose qua con cui interagire ma si spacca pure sparando anche il computer mi piace non 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 Grazie a tutti Oh, colonnello Guzzi leggendario Ma Non gli ho dato il tempo di mutare L'ho fatta man Oh, solte Eh, sto ricaricando No, nel tempo avevo pure sparato un po' a computer Quasi finita le munizioni Ah, così si distrugge la roba Pronto In realtà non è così Sì, sì, subito la roba Ah Sì, che fa una cosa Sicurezza aggiuntiva richiesta Integrità computer centrale 50% Ho aperto la porta, Gris Evento di livello 3 Che culo Che culo No, non ci vedo Non ci vedo Non ci vedo Mi sei rotto pure il fatto a mano Praticamente Quindi Prima di lanciare la scheda Io devo tornare a scambio Un po' Sì, perché non ci vedo Ci vedo Un po' E' un po' Di lanciare la sua Non ci vedo Sì, che mi sembra La sua Non ci vedo Eccolo Un altro Ah no, sono due Sautron, bene C'è un altro, c'è un altro Oh Ma eccolo, ma io no Da quella parte Oh, qualcuno mi ha comprato qualcosa Oh Mi ha fatto fare il... Stavo dire il meduglio 25 per cento Sì 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 per favore allontanarsi è una zona di combattimento uccidere, uccidere, uccidere integrità computer centrale contro messa annullamento protocollo di sicurezza squadra di ingegneria riferire al centro operativo per riparazioni immediate andiamo andiamo mannaggia addio per favore che ti succede se distroi dell'imperto grazie a tutti Sì no 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 ok No, 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 no. Sì, sì. Oh no, qua per qua non ci passo. No, non ce la faccio con le muti ma più. Ok, forse ce la faccio. Oh no, non ce la faccio. Oh no, non ce la faccio. Oh no, non ce la faccio con le muti ma più. Oh no, non ce la faccio con le muti ma più. Poi non ci sono nemmeno più zero, posso riparare. Evento di livello 4, in corso. No, la Sautron. Oh no, non ce la faccio con le muti ma più. Oh no, non ce la faccio con le muti ma più. No, ricarica. No, non ce la faccio con le muti ma più. No, non ce la faccio con le muti ma più. Abbio l'attacco contro il bersaglio ostile. Uccidere, uccidere, uccidere. Sicurezza aggiunta in banca richiesta. Giù le armi e consegnati all'autorità. Bersaglio ostile. Andiamo, porco Dio. Sì. Ho bisogno di fare qualche altra cosa. No, a me non mi bastano le cose. No, c'è un altro assalto. Amagrido. RIO. No, no ragazzi, io me ne devo andare. Non posso continuare. Sto senza munizioni. Questa area è sicura. Procedo con il protocollo di ricerca. Eh, ma siamo arrivati, sì. Bene. Finito le munizioni. Ah, è tutto proprio. Ah. Ho pure riparato qua. Vabbè, se te vuoi andare... Qua c'è il banco, eh. Bene, abbiamo trovato un attimo di pace. Vabbè, è tutto perле. Questa è piっぱare più vicino. Ah, oddio, non posso far un cazzo di... Che cazzo mi hai finito? Piombo e polvere da sparo Dovrei per forza un'ora Qualcosa lo sono riuscito a fare Non è vero, figlio, non c'hai Che cazzo significa rimpiazza i nuclei del computer principale Che cazzo significa rimpiazza Che cazzo significa rimpiazza A tutte le postazioni a prendere nuovi ordini Che cazzo significa rimpiazza Eccoli Si trovano qua Vabbè si è Missione d'area Sicurezza Ecco Attività di manutenzione non programmata nella zona deposito Si richiede l'intervento della sicurezza È motivo di allarmarti Sicurezza aggiuntiva richiesta Soppa Cazzo è una zona di 3 nuvi su un uomo e qua c'è questo pure il banco per armature e per armature squadre di sicurezza recarsi al settore delta vai a posto ci rio ci rio li devo solo piazzar aspetta li ho levati in la eh ma allora c'hai la mamma puttana sta bene qua di pochi scusa non l'ho visto l'evento di livello quattro in corso in corso 15 e 15 armi operative la sound drone no proprio no allora serve a qualcosa sta roba sto 30 ignora armature sto 30 ignora armature ora inizia a farmi incazzare possibilitamento di ulteriore spaglio pare che faccio un po' più danni ci sembra e scuola e scuola i coppi però c'ho due caricatori contati per forse adesso mi posso pure rifare munizioni problema di sicurezza risolto restare in attesa a che è questo missile c'è presenza di assaltran almeno due li ho visti a tutte le stazioni restare in attesa c'è il coronavirus c'è il coronavirus ah vero c'è il coronavirus 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 Fabricazione sostituti personale di sicurezza Questa è un po' l'officiale no, non quello là sopra perca buttando ufficiale di puntamento, attivo ufficiale di contagio, attivo ora so cinque guarda, ci sta questo ufficiale qua che sperisce la porda che vada al computer cazzo proteggere e servire c'è arrivato cazzo 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 errore sistema non disponibile preparazione al lancio richiesta eccolo cazzo 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 che codice devo mettere sentito non lo so ma ho mai fatto codice codice di lancio richiesto cazzo 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 Codice di lancio Richesto Codice di lancio Dobbiamo metter Dove sta il codice di lancio? Ecco Ma P3? P3 Li dobbiamo ritrovare Dobbiamo ritrovare tutti quelli che c'erano Richesto Per gli iscritti di bocciarli Per forza Il fatto è che poi dobbiamo rifà tutto un'altra volta Io so sicuro che dobbiamo rifà tutto Probabilmente cambiate Se succederà in un'altra sessione Sì Probabilmente sì 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 GAN SCALF TIR SCALF Stato attuale. Devcon 1, ripeto, Devcon 1, al tutto il personale, proteggere le postazioni e attendere. Hai trovato i codici? O no? Comunque, il sito Charby Nuke Code 93284143 Sì, ma cambiano ogni settimana. Ho appena visto, dal 16 al 23. Ah, ce l'hai? Dal 16 al 23 ho appena visto. Qual è? Qual è? No, non è più. Perché? Dal 16 al 23, il 23 è passato. Ah, e dobbiamo riandare là al computer. No, si vede, no? Eh sì, questo ma... C'è bisogno di andare a un sito che si chiama Nuka Crypt. Prova 794. No, è lungo il codice. 73176. Valido dal 23 aprile al 30 aprile. Aspetta, hai detto? 794. 7... 7... 7... 7... 9... 4... 7... 3... 7... 3... 176. 5... 8... C'è via la piccezza... Attenzione, il Jurex non è andato a lanciare, è una pompa tonica. Jurex, facciamole bene le cose. Che mo' so' pesante. Ah, qua si vede che parte. Lo vedi? Wow, torno velocemente al campo. Non mi sa che ci do. Trasporto troppo peso. Poi io, poi io. Per questo che porto dell'alcol appresso. È vero. Non ce la faccio lo stesso. Mi piace. Adesso ce la faccio. Perchè non ce la hai le droghe del peso. Vuoi una droga? Non è. Buff out. A tutto il personale, scomperare il silo. Ok. Ci hai, no? Sì, sì. Sonda, sonda. Quattro. Quanto tempo però ci sta a mettere, porco Dio. Sì, 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 è arrivato. Sì. Ehi, 26 secondi all'impatto, però. Sì, 26 secondi all'impatto. Ma ci abbiamo pure un agente, vabbè insomma, vabbè uno sì, no buono c'è. Sì, sì, sì. Quindi abbiamo bombardato a sta fenditura. Sì. Arrivo. Ehi, sei riempito di gente. Tentativo di acquisizione di albero di Natale fallito. Motivo? Tutti gli alberi avevano livelli di radiazioni estremamente elevati. L'umanità è un'autentica piaga per questo gentile pianeta. Oh, oh, oh. No! Che è successo? L'hanno già ammazzata. Madonna. Ma che è successo? Pistrello liberato dal karma Altro Povero Pistrello povero Che cazzo E ma c'è qua c'è uno che è no power di più Impossibile eseguire sub routine astro del cell Possibile causa collasso totale della società Allora Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, quello c'aveva proprio un campo che ha messo, no? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ho visto un po' di gente, lo fa comodo. Comodo. Sì, sì. 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 Grazie. 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 Ma ti servono i nuclei di plasma a te? Perché ce n'hai troppi che non sai che farne? Sono sette. Oh scusa. ma effettivamente è una cosa niente che stai a dire una pistola al plasma c'è una pistola al gathering c'è una pistola c'è una pistola uccidere 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 commercio pronto all'abbio manzi vado pure al plasma lo uccidere un po' una prova. Plasma Gatling, si. Vedo se ne vale la pena. Ah, non mi sono preso ma comunque la plasma ovviamente. Male male non ci sembra. Quindi forse mi servono. Se te proprio ti servono. Aspetta un attimo. Mi si sta a spegnere sta cazzo di televisione. Unità pronta al commercio. Scorte disponibili in esposizione. Adesso ti lascio per terra. Ma ce n'ho dieci ce n'ho. Mi devi dare qualcosa in cambio. Non saprei cosa. Sei in debito con me di dieci nuclei di plasma. Deve essere l'uso. Ah, quelli sono cazzo i tuoi. Vabbè, alla fine è quasi peso che tu stai dando a me davanti a te peso proprio. Si. Grazie a tutti.